Una vittoria importantissima, accolta negli ultimi istanti, riapriamo una serie? Siamo a 1, quindi è una serie riaperta. È stata una partita dura contro una squadra ostica, realmente Ostica veniva da tre vittorie di fila e oggi ha dimostrato il perché. L'abbiamo anche stavolta vinta in difesa, perché abbiamo concesso 58 punti. È l'idea del piano partita, diciamo così, ha funzionato. I ragazzi sono stati attenti e pronti a ribattere ogni contatto fisico, a ogni giocata spigolosa, a ogni fischiata strana degli arbitri. I ragazzi non hanno mai perso la testa, siamo stati sopra praticamente per 40 minuti. Sicuramente l'attacco non ha trovato quella fluidità delle altre volte, ma soprattutto per merito degli avversari, c'è da dire. Soprattutto per merito degli avversari sono stati sempre molto aggressivi e ci hanno fatto giocare spesso sui 18-20 secondi, perché erano su ogni linea di passaggio, erano aggressivi sul pick and roll, erano sempre pronti. Però noi, meno male, l'abbiamo praticamente gestita per tutta la partita, potevamo fare qualche break in più, ma i falli dei piccoli, dei due playmaker, subito due falli e tre falli al primo quarto, ci ha un po' condizionato e davvero ho dovuto giocare con De Fabritis per qualche minuto da playmaker. Ho saltato un po' le rotazioni, David stasettimana aveva fatto solo un allenamento, quindi dovevo gestirlo, ma è stata una partita vera, vinta realmente con grandissima attenzione difensiva e nei momenti importanti anche le scelte giuste e gli attacchi giusti. Due uomini, secondo me oggi su tutti, uno è Francesco Papa, l'abbiamo visto, ma questa non è una scoperta, chiaramente è così sontuoso, non è roba da tutti i giorni, ma mi sembra che anche Daniello finalmente sia riuscito ad incidere nella partita. Ma Andrea Daniello incide spesso, perché magari tanto il suo lavoro si nota di meno, ma in difesa è un fattore importantissimo, spesso annulla l'avversario di turno, sta diventando un giocatore, diciamo così, tra virgolette, molto più pulito nelle scelte rispetto forse all'anno scorso, dobbiamo, secondo me oggi è stato molto utile nelle letture, nelle spaziature, in tanti di quel lavoro che non sono punti, non danno valutazione, non danno assist, ma sono importantissime nella chimica della squadra e non è un caso che ha giocato tanto, spesso i giocatori, Daniello oggi ha fatto 7 punti, ma ha giocato 28 minuti, eppure è una guardia teoricamente tiratrice, evidentemente è riuscito a fare tante altre cose, di quel lavoro oscuro che si nota di meno, ma che è importante vincere le partite. Francesco è un giocatore che cresce secondo me mese dopo mese, mette sempre qualcosa in più, l'anno scorso quando è arrivato tirava malissimi tiri liberi, è diventato una garanzia, non aveva fiducia nel suo tiro da tre, adesso sta diventando un po' una fiducia in più, e poi sta giocando meglio nelle spaziature, prima era un po' un cavallo pazzo, andava ai 200 all'ora senza rendersi conto di quello che stava succedendo, è migliorato anche in quello, e il suo dinamismo, il suo modo di interpretare la palacresa all'interno di un sistema ha un senso, magari l'anno scorso sbalvolava ogni tanto, perdeva qualche giro, quest'anno secondo me anche con una chimica di squadra diversa rende anche di più. Francesco Papa, assoluto protagonista di questo match qui al Cari Sport, un Francesco Papa stellare, vi leggo le sue cifre, 6 su 10 dal campo, 17 punti, 11 rimbasti, 3 assist, persino una bomba, Francesco una prestazione, ripeto, stellare. Sì, è andata bene, sia personalmente ma soprattutto di squadra, siamo riusciti a tenere botta quando sono entrati nel terzo quarto, dal più 10 al... sono riusciti a andare al meno 4, siamo rimasti sul più 4, e la chiave è stata soprattutto in difesa, quando nel secondo tempo siamo riusciti ad arginare il loro pick and roll, siamo riusciti ad adeguarci, e niente, abbiamo reagito al momento giusto, ripeto, ancora in difesa, che è la chiave per fare un buonissimo campionato, non è solo l'attacco ma soprattutto la difesa. Finalmente vi siete potuti allenare per una settimana tranquilli in terra? Sì, ci siamo riusciti dopo 6 partite back to back praticamente, e sì, la differenza si nota, soprattutto nei minuti finali, rispetto a Desio invece di calare siamo aumentati, è andata bene, siamo contenti, adesso ci aspetta un'altra settimana per preparare meglio Cremona. Grazie a tutti!